Quattro pilastri, una legge importantissima, attrarre, prima, attrarre investimenti, dare certezze della possibilità di investire in Friuli Venezia Giulia, la secondo pilastro, la sostenibilità, la capacità di mettere risorse, anche quelle legate alla comunità europea, legate quindi al negoziato del PORFES 1420, sotto il cappello di questa legge, che per la prima volta è la legge che tiene insieme tutto il manifesto del terziario, il terzo cappello è quello della semplificazione dei vincoli, il quarto cappello è la razionalizzazione dei consorsi e dei distretti. Questa è una legge quindi molto complessa, che si basa su questi quattro pilastri e che in questi 88 articoli ha all'interno di fatto la vera riforma del manifatturiero del terziario del Friuli Venezia Giulia. Nasce un'agenzia per gli investimenti, possiamo un po' delineare i tempi, la tempistica almeno? È immediata perché in questo anno l'abbiamo già preparata, abbiamo preparato il terreno, costituendo la nuova area all'interno delle attività produttive che riguardava sia la gestione delle crisi che la parte dei nuovi investimenti. Questa area particolare avrà al proprio interno la nuova agenzia investimenti Friuli Venezia Giulia, quindi non è un nuovo carrozzone, un nuovo ente eccetera, ma è un dipartimento, un'area all'interno dell'attività produttiva. Semplificazione, se può magari ricapitolarci le misure principali, come si concretizzerà? La semplificazione in particolare si divide in due settori, la prima che è una serie di piccole norme che vengono, come dire, levate da alcune leggi, in particolare quelle del settore artigianale, e dall'altra invece c'è una semplificazione rispetto ai vincoli, rispetto alla possibilità di fruire della contribuzione e quant'altro. Fra le altre cose, un altro strumento molto interessante che nasce con questa legge, che è quasi banale dire, ma che nella pubblica amministrazione banale non è, è quella di un nuovo catalogo degli incentivi per poter arrivare in Friuli Venezia Giulia. Cioè per la prima volta vengono messe a regime, rese pubbliche, quelli che sono tutti gli incentivi operativi, quelli veri, quelli finanziati, non quelli dove c'è un titolo ma non ci sono i soldi, per poter far sì che le aziende abbiano un quadro complessivo di tutto quello che sono le disponibilità, e sono parecchie, che il Friuli Venezia Giulia offre a possibili investitori. Porterà nuova occupazione questa norma e se sì, perché? Assolutamente sì, l'intero comparto, perché va finalmente a rimettere in moto e ad aggiustare meccanismi che nei tempi si erano, per anche ovvi motivi di logoramento, si erano incancreniti. Quindi andiamo ad operare sull'intero sistema da una parte e dall'altro mettiamo risorse certe. Risorse che arrivano da una parte sicuramente dalle risorse comunitarie, ma dall'altra arrivano da risorse regionali, perché abbiamo circa una trentina di milioni di euro immediati già nel 2015 di risorse regionali. Resta aperto il fronte della fiscalità di vantaggio, lei dice potremmo parlarne in aula? Sì, sicuramente questo è un fronte che va affrontato, che va in qualche modo con cui bisogna aprire un tavolo di confronto a livello nazionale e che il collega Peroni e la Presidente hanno già iniziato ad affrontare, adesso lo metteremo a regime e non è un tabù, mettiamola così, non è sicuramente un tabù. Ultimissima cosa che volevo chiedere, il concorso di idee. Questa è una cosa, una chicca, una cosa molto piccola, forse non meritava neanche un articolo di legge, però abbiamo voluto metterlo proprio per dare un significato a quanto crediamo che il sistema delle nuove start-up possa aiutare in qualche modo anche a dare fiducia, a dare un segno anche positivo e quindi un concorso di idee che permetta di premiare la migliore idea imprenditoriale giovanile del Friuli Venezia Giulia e poi seguirla anche nella parte legata alla reale applicazione, quindi a un'azienda che nasce e che poi speriamo possa essere in qualche modo portatrice di valore, di valore occupazionale, di valore per quanto riguarda economico, per quanto riguarda la nostra regione e questa ogni anno per i prossimi anni potrebbe essere una bella cosa. Politicamente cosa si aspetta in aula dalle opposizioni? Che atteggiamento si aspetta? Visto che insomma il clima nelle ultime leggi non era proprio tranquillo. No, io penso che ci sarà un clima molto positivo, nel senso che l'abbiamo già visto anche quest'oggi, per quanto non si sia aperto il dibattito. Io penso che questo sia un tema talmente importante e talmente, come dire, che segna lo spartiacque fra il futuro del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia e il passato, che questa non potrà non essere una legge a forte connotazione di questa maggioranza e di questa giunta da un lato, ma nello stesso tempo capace di accogliere suggerimenti e indicazioni da parte di tutta l'assise regionale. Io non ho alcun dubbio che così sarà.